Non pensi che ci sia troppa paura sul mercato? Alcuni parlano di 40.000 dollari, ma il mercato potrà dare un'occasione del genere. Allora, concordo sul fatto che secondo me c'è troppa paura sul mercato e ve lo faccio anche vedere perché c'è un dato che a mio parere è insensato in questo momento ed è questo. Questo è il Fear and Greed Index di Bitcoin. Siamo a 40. Come? Bitcoin a 61.000 dollari, a inizio anno era meno di 45.000, adesso a 61.000 dollari e c'è paura, il sentiment che c'è sul mercato è paura e assolutamente senza senso. Secondo me in questo momento c'è troppa paura sul mercato. Quel dato dovrebbe essere neutro o addirittura leggermente positivo. Infatti, giustamente, Giuseppe fa notare, alcuni parlano di 40.000 dollari, ma in effetti a mio parere sembra in questo momento un'ipotesi assolutamente possibile, ma ripeto il concetto di prima, poco probabile. In questo momento ci sta una discesa di Bitcoin a 57.000 dollari, a mio parere volendo ci sarebbe anche una discesina a 53.000 o poco sotto, ma sotto i 51.000 è davvero difficile. Se facesse come nel 2021, sì, potrebbe tranquillamente tornare a 40.000 dollari. Io credo che molti temano che si faccia come nel 2021, ma il 2024 non è il 2021, è troppo differente. Quindi in questo momento, a mio parere, il sentiment di mercato è eccessivamente timoroso e questo giustifica il fatto che molti parlano di 40.000 dollari, 45.000 dollari. Mentre invece, a mio parere, è molto più probabile che ci sia un bottom a 57.000 o attorno a 53, 52, 51.000, che poi magari possono anche non essere raggiunti, però io non vedo grossa potenzialità di scendere sotto quelle cifre in questo momento. Proprio perché le altre cifre che saltano fuori come 40.000 sono un eccesso di paura. Questo dato è chiarissimo. Questo è un eccesso di paura. Non ha senso che si sia in territorio negativo. Tenete presente che questo Fear and Greed Index ha 50, che è la metà, perché va da 0-100, che è neutro. 100 è estremo entusiasmo, cioè 0 è estrema paura. In questo momento, a mio parere, dovrebbe essere 50, 55.000. È in piena normalità Bitcoin in questo momento, ma fin tanto che sta sopra i 57.000 dollari è in piena normalità. Perché il Fear Index è a 40? Per un motivo molto semplice, perché quell'indice lì è fatto soprattutto dai retail, non dalle balene, non dalle istituzionali, e i retail sono emotivi. Questo è un eccesso di emotività proprio da mano a. Grazie a tutti.